Dopo domani ci sarà la presentazione delle prime firme raccolte per il referendum su San Siro, cosa ne pensa? Io penso che sia in questo momento fondamentale avviare il dibattito pubblico, perché credo che un confronto e un incontro reale e costruttivo tra il comune, le squadre e la cittadinanza sia fondamentale. Sul referendum io non lo so, so che c'è questa raccolta di firme che peraltro molti sostengono, bisognerà vedere. Io penso che prima di pensare al referendum si debba fare il passaggio del dibattito pubblico per capire e percepire qual è veramente l'intenzione, il desiderato dei cittadini che è fondamentale, le proposte che vengono dai cittadini, le proposte che vengono dalle squadre, il comune come mediatore e questo è il passaggio fondamentale. Poi penseremo al referendum eventualmente.